Fabio Giulianelli, il ritorno di Fefe De Giorgi, come raccontiamo questa storia che si apre con un altro capitolo? Possiamo sintetizzarlo con una frase secca, ritorno a casa, perché penso che con Fefe è iniziata la nostra avventura vincente, naturalmente lì avevamo bisogno delle certezze per crescere e dovevamo imparare a vincere, stiamo su un momento di difficoltà, indubbiamente la squadra ha bisogno di una guida decisa che la riporti a riprendere fiducia e non avevamo una scelta migliore proprio su De Giorgi, Fefe conosce bene l'ambiente, conosce la nostra società, è chiaro che il lavoro sarà importante, dovrà ricominciare, non dico da zero, ma dovrà ricominciare a riprendere in mano la squadra su un momento delicato della stagione, quando gli appuntamenti invece corrono e c'è bisogno subito dei risultati. Quanto tempo vi siete accordati? Ma immediatamente, io quando abbiamo deciso ho fatto prima la telefonata a Giampaolo Medei per esprimere le mie considerazioni e immediatamente dopo ho cercato subito a Fefe in Bologna per capire la possibilità e cercare in tutti i modi di trovare un accordo che era una questione di formalizzare in qualche ora, non avevamo dei giorni, delle settimane, quando c'è stata chiara e manifesta la volontà siamo andati decisi sulla scelta su De Giorgi.